E' un po' il cane che si morde la coda, mi spiego. Si chiede qualità, però il parco degli arbitri è limitato nel numero purtroppo, perché si riesce a reclutare pochi arbitri, perché è anche vero che tanti genitori hanno paura di mandare gli arbitri così ai propri figli, così a iniziare questa attività dell'arbitraggio. Sono un po' il cane che si morde la coda, perché chiaramente non si può avere qualità se non si ha anche la quantità su cui scegliere. Ma io penso che i problemi sono due. Uno legato al reclutamento arbitrale, a cui facevo riferimento prima, e c'è una difficoltà a reclutare gli arbitri per poter, ovviamente, come in tutte le realtà, fare una buona selezione. Come dice lei, dalla quantità si fa selezione. Non sempre però è così. Noi riusciamo comunque a garantire la qualità. Io sono convinto che i nostri arbitri, rispetto alla categoria nella quale sono inquadrate, riescono a soddisfare le esigenze tecniche delle gare che siamo chiamati a designare. Quindi su questo io vorrei che qualcuno la smettesse di pensare che l'arbitro è quello comunque che determina sempre... Non è così. I 18 arbitri di eccellenza sono idoni per l'eccellenza. Poi è chiaro che cambia un po' rispetto ai propri progetti, perché io mi immedesimo pure in un presidente di società che spende una cifra X e vorrebbe vedere le cose diversamente. Non sempre è così. Dietro una decisione arbitriale a volte si trova la scusa del tecnico che magari può, come l'arbitro, se non sbagliasse l'arbitro, sbagliare qualche sostituzione. In prima categoria però il discorso qualità incide un po' di più forse? Ma incide perché ovviamente essendo ad un livello inferiore abbiamo gli arbitri che non sono ancora in un livello tale da poter affermare da parte mia che sono tutti bravi. C'è una graduatoria e ci sarà un motivo per cui in prima categoria c'è chi è primo in graduatoria e c'è chi è 64esimo, voglio dire. Ma è una questione di regole o di cultura? C'è la difficoltà anche di vedere il colloquio che c'è con le società, società che si lamentano. Secondo lei è un problema proprio di regole che non sono apprese o proprio di cultura del sospetto? Ma guarda, io penso che sia un problema culturale soprattutto in Calabria. Noi siamo abituati a bersagliare l'arbitro a prescindere e quindi il problema c'è. Questo non significa avere un organico di arbitri di prima categoria tutti, per intenderci all'altezza assolutamente. In prima categoria è bene ricordare che arrivano gli arbitri che qualche settimana prima erano in seconda categoria e quindi venivano formati dalle sezioni. Quindi un livello alla portata anche dei giovani ragazzi. Comunque si è selezionati per la prima categoria quando si è valutati i doni da parte delle sezioni stesse. Tornando all'inizio, la mia prima domanda era nel senso cercare la collaborazione delle società, maggiore comprensione, maggiore collaborazione in modo tale da non, tra virgolette, aggredire, tra virgolette in alcuni casi, togliendo anche le virgolette, i direttori di gara e quindi creare un ambiente terreno che possa accogliere effettivamente altri arbitri. Ma intanto a me sarebbe piaciuto stasera sentire qualcuno dire, rivolgersi alle scuole calcio, che c'è spazio anche nell'AIA per quei tantissimi giovani che non trovano spazio nelle squadre. E quindi questo anche implica una predisposizione probabilmente culturale. Cioè fino a quando noi valuteremo l'arbitro come una figura isolata, una figura, io appunto lanciavo la battuta, gli arbitri croce e delizia del calcio per questo motivo, perché non tutti sono convinti dell'importanza di rispettare comunque la figura dell'arbitro. L'arbitro sbaglierà sempre. Dovremmo essere noi capaci di farlo sbagliare meno e allora io credo che se faremo trovare all'arbitro giovane, soprattutto in prima categoria, un ambiente accogliente, un ambiente non ostile, ecco almeno questo, non vogliamo assolutamente condizioni ideali ma almeno normali. Per questo facevo l'esempio del 17enne e del 18enne che va a 200 km da casa solo o magari accompagnato al genitore perché non ha la patente e si ritrova un mondo contro a volte. E quindi io credo che se ognuno di noi facesse qualcosa in più, io vorrei che si notasse che Unaia che negli ultimi anni fa molta autocritica. Noi non abbiamo mai accusato gli altri, così come gli altri spesso e in maniera gratuita accusano noi. Noi facciamo molta autocritica e diciamo che l'arbitro ha sbagliato e siamo d'altronde quelli che vi chiediamo i filmati delle gare per poter poi nei raduni rivederle e tornare sugli errori e ancora di più tornare sulle cause che hanno portato a far commettere l'errore all'arbitro. Quindi noi facciamo la nostra parte. Incontri come questi vanno nella direzione giusta insomma? Assolutamente sì, anzi io stasera per l'ennesima volta ho lanciato un appello, cioè quello di riuscire a creare questi momenti per confrontarsi. Io credo che si cresce veramente per confronto, come dice il nostro responsabile del sattore tecnico Alfredo Trentalange e più volte ci incontriamo, cioè la collaborazione è qualcosa che deve nascere a bocce ferme, deve iniziare a bocce ferme. È impensabile che ci sia collaborazione durante i 90 minuti. Durante i 90 minuti ci sono due squadre che hanno l'obiettivo di vincere la partita, l'arbitro è quello di, sbagliando meno, di garantire tutto questo e quindi sono interessi diversi. Prima se riusciamo a creare questa collaborazione nel rispetto reciproco dei ruoli io penso che è abbastanza facile farlo. Grazie. Grazie a voi.